Manco te ne sei accorto No, non mi piace Su, gara velocissima Tommy ha vinto il giro 1 e Chiara non se ne manco accorta Come al solito il terzo classificato è sempre una cittura più alta Della serie non vada niente La cintura Per la categoria 30 kg Terzo classificato Baritao Pudo Seconda classificata Campanini Sofia Primo classificato Spasiano Tommaso 17esima medaglia d'oro Ma cosa facciamo alla ventesima? No, ha detto il maestro che è l'ultima E' l'ultima delle amichevole Adesso solo ai campionati regionali Vabbè però altre tre medaglie che c'era l'altro Grande Tommi Tommi Ma a caldo Ma che ha detto l'arbitro? Che ti aveva rimproverato? Ma no, mamma mi ha detto A tutti che dovevamo tenere la Cioè che con il destro dovevamo fare Le tecniche a destra Ah ho capito Erano vietate le tecniche prese inverse Ho capito Ho capito Ok Bravo Tommy La mamma La mamma ha abbandonato La figlia chissà dove Dove hai abbandonato Maria Lucia? La Tommy Troppo facile Ha detto Ha detto Insomma basta Queste non sono Non sono per noi Erano forti No, erano forti tutte e due Come l'hai trovato? Ti vedevo un po' spompato E qua Si difendeva Si difendeva Erano un po' spompati Tommi è arrivato un po' spompato Oggi pioviva Voleva andare alla festa di carne male Non si è fatta più Leonardo Non è venuto Ciao Leonardo Ciao